Ciao ragazzi, in questo nuovo video, non parliamo di Juventus in specifico, ma parliamo di quello che sta succedendo in queste ore per l'Inter, il Milan, gli Ultras che avevano conversazioni, legami con i dirigenti o allenatori delle due squadre e bisogna vedere dalle intercettazioni, cosa viene fuori, se i club sono parte l'ESA o meno, poi andiamo a vedere dall'altra parte, noi Juventini comunque anche senza certezza della pena veniamo condannati per poi venire a sapere che poi non era da condannare, neanche Agnelli era da condannare perché dicevano che c'erano delle intercettazioni e poi queste intercettazioni non c'erano e Agnelli piano piano anche lui non ha avuto più tutti quei mesi di sanzione, di inibizione da 30 mesi, siamo passati se non sbaglio a 3 mesi di inibizione che comunque la Juventus doveva essere penalizzata, sapendo tutti quanti il motivo per cui, perché poi Cefere in Superlega, cazzi vari, in mezzo di smesso ci sono i soldi, Bisogno, tutto quanto Agnelli dava fastidio e quindi è stato condannato anche Agnelli, la Juventus poi è venuta fuori che non aveva fatto nessun falso in bilancio o che però i punti in classifica ce li hanno tolti invece questo di Inter e Milan è un po' diverso andiamo a leggere qua, Maxi Blitz contro i clandestini, contro il clan degli Ultrasi di Inter e Milan arresti per acquisizioni, si chiama sete di sangue, sete di intercettazioni, soprattutto sete di guadagni che porta non solo a un patto di non belligeranza tra gruppi all'apparenza rivali ma i veri accordi a pressione su club per gestire in particolare il business delle vendita a prezzi maggiorati dei biglietti delle curve quando io ragazzi vi dico che la gente si menano, i tifosi si menano tra di loro oppure vanno d'accordo, perché sotto ragazzi ci sono degli accordi, le tifuserie non si faranno mai del male tra di loro e infatti Inter e Milan, alla prensa che erano rivali, sotto avevano degli accordi tra di loro c'è tutto questo, oltre a due omicidi non proprio sullo sfondo l'ultimo meno di un mese fa, nell'ordinanza con 19 misure tra cui carceri domiciliari che ha alzerato i vertici solidali dei gruppi ultra interisti emilianisti la curva nord e la sud nell'inchiesta dei PM della DDA Paolo Storari e Sara Ombra indagini che, come chiarito dal procuratore Macello Viola poi dobbiamo parlare anche di lui, ha riunito più filoni investigativi il primo nel 2018, condotti da più articolazione della Polizia di Stato tra cui la squadra mobile milanese, il Gigo di Milano e lo Scisco della GDF appesare l'aggravante, il metodo mafioso, dicono qua, io questa cosa qui non lo so sta ai giudici decidere qual è il problema messo a fianco dell'accusa di associazione per delinquere a carico dei capi della Nord che ha portato in carcere a tagliarti Marco Ferdico nel direttivo della curva interista e legatissimo ad Antonio Bellocco erede dell'omonimo clan poi, se dal lato interista è stato arrestato anche Renato Bosetti a vertice per sostituire Beretta in cielo è finito anche il capo ultramilanista Luca Lucci che nel 2018 si era fatto fotografare con Matteo Salvini dalle carte si evince come gli ultras siano riusciti scrive il GIP Domenico Santoro a permeare ogni attività che avesse a che fare con lo stadio San Siro trasformato in territorio franco fuori da ogni controllo di legalità fatto di scontri violenti ma che con la rarefazione delle forme di contrasto crea le condizioni per il successivo controllo di ogni iniziativa economica dai parcheggi al catering gli ammolati dei panini, facchinaggio, bibite vendute da San Siro si parla dell'intestazione di incassi per milioni di euro poi, bisogna smettere di far finta di niente ha munito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo dice, nessuno è indagato, precisa procuratore Viola tra dirigenti, cacciatori e responsabili di Inter e Milan per corruzione tra privati invece in una tranche è indagato anche con consigliere Lombardo Palmeri quello che voglio dire io è questo qua la roba più grave per me club danneggiati il procuratore Viola in conferenza con la cover dell'Inter è io qui che mi voglio soffermare dice, in totale sono una quarantina gli indagati dell'inchiesta sulle curve di Milena e Inter e quanto è emerso durante la conferenza stampa della procura di Milano fra di loro però non c'è alcun dirigente del club ha spiegato il procuratore Marcello Viola parlando delle società come soggetti danneggiati da quella che il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo ha definito deriva criminale degli stati italiani e tentativi di condizionamento della vita delle società calcistiche la capa della direzione distrittuale antimafia di Milano Dolci ha comunque spiegato che esistono agli atti qui gli atti dell'inchiesta conversazioni dal cui ummerge un confronto tra gli ultras e dirigenti dell'Inter e le figure deputate a intrattenere i rapporti con la tifoseria ok l'inchiesta milanese dimostra i rischi di infiltrazione che si insinuano nel caccio professionistico e non professionistico da parte della criminalità organizzata lo ha detto il procuratore antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo a proposito degli arresti dei capi ultra Milani e Inter nell'inchiesta del DDA milanese ok però quando io vado a sentire Marcello Viola che parla dice che i club Inter e Milan sono soggetti danneggiati dice anche bisogna ora vedere cosa sia successo dobbiamo interrogare i vari i vari soggetti interessati di Inter e Milan soprattutto dell'Inter come Inzaghi Marotta Zanetti che hanno avuto rapporti stretti con con gli ultra Viola chi è il procuratore di Milano che sta indagando sul caso degli ultras di Inter e Milan e dichiara fede interista come da lui dichiarato tempo fa in un video quello che sta facendo discutere in queste ore è il fatto che Viola sia e sia presentato in conferenza stampa sui fatti riguardanti anche a Società Nera Azzurra con la cover del telefono dell'Inter non è proprio il massimo esporsi in questo modo nella conferenza stampa dove si rappresenta il simbolo dell'inversalità della giustizia a sito franquattatore di San Siro Nera Azzurra Viola è stato spesso visto in compagnia di alcuni dirigenti della Società Nera Azzurra come nel giugno 2022 quando in un albergo del centro di Milano si intrattenne con gli due ad Interisti Marotta e Antonello un incontro istituzionale di conoscenza reciproca visto che il procuratore di Milano aveva preso da poche settimane il posto del precedente procuratore capo della città Francesco Greco però io dico se poi questa persona qua deve indagare ok? deve interrogare certe persone deve interrogare Zanetti Inzaghi, Marotta come possiamo pensare che ci sia un processo equo? io dico già che tu in un video avevi detto che sei di fede interista e questo uno lo può dire non è come chi ne è che ha detto io sono napoletano e come procuratore sono anti-juventino e questa cosa qui ragazzi è anche qualcosa di più grave ma tu vai a fare una conferenza stampa di un certo livello grave grave dove tu sei un esponente di spicco per fare questa conferenza stampa dove devi essere integerimo e ti vai a presentare con la cover dell'Inter ma io dico dove siamo arrivati? persone serie ce ne sono più in questo campo? no che poi tu sei interista questo lo sappiamo tutti ma se qualcuno tutto a caso ancora non lo sapesse e tu vai lì con la cover dell'Inter in bella vista come uno può pensare ripeto che ci sia un processo equo io vorrei vedere quanto porteranno alla lunga questo processo se si farà poi se andrà a prescrizione o seppure finirà tutto tra luce e vino io non sono nessuno per giudicare gli ultra e i dirigenti dell'Inter sia perché sono una persona normale leggo soltanto quello che scrivono i giornali e vi riporto le notizie e vi porto anche il mio pensiero però il mio pensiero si incentra tutto su questo su Marcello Viola che è procuratore che deve fare deve fare indagini interrogatorie a certe persone però sei interista questo ok ma vai con la cover dell'Inter anni e anni fa questa cosa qui non succedeva ci vuole proprio serietà in certe cose istituzionalità vai con il telefono con la cover nera scura tinta unita non che vai lì con la cover dell'Inter cover del telefono dell'Inter io non so dove siamo arrivati quindi per me io non dico perché è l'Inter e deve essere comunque condannata se ci sono delle cose va condannata come è stata condannata la Juventus per cose che non esistevano per cui solo lo pensavamo tutti però mettiamo anche caso che c'era la Juventus di mezzo e uno andava lì con la cover della Juventus e sarebbe successo il puttiferio la gazzetta oggi vai a prendere il giornale vai a vedere perché io non compro più la gazzetta da anni vedi a prima pagina davanti titolo così in cubitale parlano della Champions League e del caso dell'Inter una strecetta in alto un rettangolino in alto e sono veramente ridicoli poi invece tutti altri giornali e mettono proprio in prima pagina in primo piano questa cosa qua quindi ragazzi non lo so come andrà a finire vedremo se Marcello Viola si dimetterà perché c'è poi questo conflitto di interessi oppure se andrà avanti ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate mettete like commentate condividete iscrivetevi al canale fino alla fine forse Juventus ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi ciao 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 ciao